La linea del carcinoma renale metastatico, questo è lo scenario a quale siamo ormai abituati, questa diapositiva l'avete vista varie volte, è una sorta di rivoluzione, non c'è dubbio rispetto ai tempi delle citochine, forse è quasi una rivoluzione industriale nel termine non tecnico, cioè non della rivoluzione dei primi del novecento, però c'è stato quasi un ingorgo di farmaci a questo punto. Nella mia relazione cercherò di non soffermarmi in dettaglio troppo negli studi, ma di capire alcune cose, alcuni particolari sui quali ancora dobbiamo far luce con esattezza, a parte un overview degli studi di prima linea, poi quando iniziare al trattamento, questo è un argomento di dibattito attualmente, quando diciamo iniziare e con che cosa iniziare e per quanto tempo, che è un altro argomento abbastanza nuovo. Cominciamo con la prima linea, rapidamente, questi sono gli studi e le curve di progression free dei primi farmaci dopo il sunitinib che è stato confrontato con l'interferone in pazienti in primissima linea, poi il solaferim in realtà in pazienti pretrattati con citochine, successivamente in una popolazione mista di pretrattati con citochine e pazienti vergini il pazopanib, e poi i due studi con la combinazione di interferone e bevacizzo, lo studio europeo e lo studio americano, che hanno tutti questi studi hanno dimostrato un vantaggio in PFS, nessuno è riuscito a dimostrare realmente, probabilmente c'è la sensazione che ci sia anche un vantaggio in sopravvivenza, ma o il crossover e i successivi trattamenti lo hanno in parte cancellato. E poi tutti i studi precedenti sono chiaramente per lo più in pazienti a prognosi buona e intermedia, secondo i criteri di Mozart, e poi lo studio nei pazienti invece a prognosi pur rischio, e così detti, in questo studio oltre ai cinque classici criteri di Mozart, è stata aggiunta la multimetastaticità, questo è l'unico studio che ha confrontato il tempsirolimus, quindi un inibitore di mTOR, verso interferone o verso la combinazione, che è stato in grado, in questa sottopopolazione, di dimostrare un incremento in sopravvivenza. Il passo successivo qual è stato? È stato quello di aumentare l'inibizione dei recettori di VEGF, con farmaci sempre più attivi. Questa diapositiva indica la capacità, la concentrazione inibitoria al 50%, ovviamente stiamo parlando di esperimenti in vitro, ma più bassa, più al di sotto dell'asse della scissa sono quelle barre, maggiore è la capacità inibitore del farmaco. Questo dovrebbe servire da un lato ad aumentare l'inibizione dei recettori di VEGF, dall'altro di ridurre gli effetti off-target, cioè di quegli effetti che non sono legati all'attività primitiva del farmaco. Dopo uno studio randomizzato, un randomized discontinuation trial col Tivozanib, questo è il farmaco del quale sto parlando adesso, che ha dato risultati interessanti, è stato disegnato uno studio di fase 3. In questo studio pazienti sia vergini che pretrattati o con citochine, con un agente in studio, con terapia ormonale o chemioterapia, sono stati randomizzati a ricevere il Tivozanib oppure il Sorafenib alla schedula classica. I pazienti nel braccio in progressione, nel braccio di Sorafenib, attraverso un'estensione dello studio, sono stati poi successivamente eventualmente trattati con Tivozanib. e questo studio ha dato nella popolazione generale stati sostanzialmente sovrapponibili agli altri inibitori di VGF, con la PFS di 11,9 verso 9,1 e nei pazienti in prima linea pura di 12,7 verso 9,1. Come ogni nuovo farmaco ci siamo trovati di fronte a qualche tossicità nuova, a parte l'ipertensione che è una tossicità tipica di questa categoria, poi c'è stata una disfonia e questi dolori vertebrali, mentre per il Sorafenib gli effetti conosciuti, quindi la tossicità mucositica, l'eritrodisestesia palmoplantare e l'alopecia. Quindi sostanzialmente abbiamo sei farmaci in questo momento, in pazienti vergini e in pazienti eventualmente pretrattati con citochine, e la popolazione ovviamente quasi in via di scomparsa. Sappiamo che le possibilità di cura sono rare, ma non assolutamente non possibili, ma al momento attuale ancora quello che non sappiamo è come scegliere il paziente a quale dare un determinato farmaco. Anche ancora non sappiamo con esattezza quando iniziare. Quest'anno sono stati presentati, anche l'anno scorso, dei dati sull'importanza del volume tumorale. In questo studio presentato all'ASCOGIU del SQDE c'è una correlazione molto stretta tra la massa di malattia proprio misurata in centimetri e la sopravvivenza. Quindi maggiore è la massa che ovviamente minore è la sopravvivenza e diciamo l'obiettivo finale, il messaggio finale sarebbe quello di iniziare la terapia il più precocemente possibile. Sulla stessa linea è uno studio presentato nel 2011 da un altro autore. In realtà siamo così sicuri che sia la misurazione e la massa della malattia in assoluta a determinare la sopravvivenza? Io sono convinto che non sempre basti questo. In questo paziente per esempio con la massa enoplastica sicuramente in centimetri al di sopra dei 15, questa è la foto che mi hanno mandato l'anno scorso, questo è un paziente che è in terapia con Suniti da tre anni con degli intervalli, con delle pause periodiche e questo invece è un paziente che come vedete nella parte in alto, questo è il suo stato dopo nefrectomia, abbiamo fatto solo osservazione perché non aveva malattie misurabili e la malattia polmonare è praticamente scomparsa un mese dopo senza nessun trattamento e questa è l'attacca di due mesi dopo. Quindi probabilmente c'è qualcosa di biologico anche alla quale dobbiamo stare attento e non solo. All'interno delle diverse categorie di carcinoma renale poi c'è un sottogruppo di pazienti nei quali addirittura si potrebbe pensare di fare solo osservazione. Sappiamo infatti che in tutti gli studi nei quali è stato utilizzato un braccio di confronto con placebo, nei pazienti in cui era permesso il crossover, quando i pazienti con placebo sono stati poi, è stato permesso di ottenere il farmaco, le curve di sopravvivenza sono diventate sovrapponibili. Questo potrebbe essere un senso, cioè il significato di questo potrebbe essere che aspettare prima di iniziare un trattamento può non alterare la sopravvivenza, ovviamente in pazienti che non siano altamente sintomatici o che non abbiano una malattia rapidamente evolutiva. Quindi c'è un sottogruppo di pazienti più anziani con malattia probabilmente non particolarmente di alto volume che abbiano una malattia a lenta crescita o per esempio con comorbidità e che siano in grado di gestire questa cosa che possono essere osservati. Viceversa, pazienti più giovani con malattia in siti sfavorevoli da un punto di vista chirurgico con malattia chiaramente rapidamente evolutiva e che siano candidati chirurgici possono essere invece, devono essere probabilmente trattati inizialmente. Quello che ancora non sappiamo nel caso si possa parlare di osservazione è un argomento che sta prendendo piede, è quando iniziare, quali sono i fattori dei quali dobbiamo tener conto nel momento in cui seguiamo, proviamo a seguire un paziente senza iniziare un trattamento, di che cosa dobbiamo tener conto prima di iniziare. Quindi possono essere fattori legati al paziente, all'anoplasia, la frazione di crescita o le interrelazioni. Nessuno di questi fattori ad oggi può avere un'applicazione clinica. E' chiaro, questo è un cartoon, ma che in una malattia indolente esiste un equilibrio tra tipi cellulari diversi e quindi per evitare la selezione di croni resistenti un atteggiamento ragionevole può essere quella di trattare, di cercare di mantenere stabile il volume senza stressare troppo il trattamento. Ma questa è chiaramente solo un'ipotesi. Quello che sicuramente oggi, ahimè, nonostante la ricchezza di farmaci, non sappiamo è a quale paziente dare quale farmaco, che non è poco in realtà. Allora ci si potrebbe basare sulla tossicità, perché sappiamo che ognuno dei farmaci sia dall'ecotecoria degli inibitori del recettore di VGF, sia agli emitori inibitori hanno delle tossicità caratteristiche, sull'apparato cardiovascolare per quanto riguarda gli inibitori di VGF, quelli sul metabolismo per quanto riguarda gli inibitori di mTOR. Ed è chiaro e sappiamo anche che queste tossicità possono portare ad una sospensione del trattamento una percentuale che è alta e la sospensione del trattamento è chiaramente un evento da evitare. E allora è altrettanto chiaro che il nostro obiettivo dovrebbe essere, al di là dei pazienti fragili, di evitare trattamenti in pazienti che sappiamo avere delle comorbidità preesistenti, quando sappiamo che la tossicità più caratteristica del farmaco che gli stiamo per dare è proprio quella e quindi oltre a generare il danno al paziente potremmo chiaramente determinare una sospensione del trattamento. Quindi per esempio in un paziente con un'ipertensione non controllata con la terapia medica prima di iniziare il trattamento ci sono dei farmaci che sappiamo che possono essere non gestibili. L'altro modo, un po' più evoluto, non attuabile attualmente, sarebbe quello di predire la tossicità sulla base dei polimorfismi genetici. Questo è un esempio della possibilità di predire determinate tossicità. Chiaramente questo ancora non può essere utilizzato nella pratica clinica. Un nuovo spiraglio si apre riguardo alla possibilità di scegliere il farmaco sulla base della preferenza del paziente. Questo grazie ad uno studio che ha confrontato, un studio molto particolare che proprio si chiama, è legato alla preferenza del paziente per cui i pazienti sono stati trattati sequenzialmente per 10 settimane con pazopani o con sunitinib. Dopo le prime 10 settimane veniva fatta una rivalutazione di malattia. In caso di risposta i pazienti venivano trattati col farmaco che non avevo fatto ovviamente in prima linea. Al termine del trattamento, questa parte dello studio era chiaramente in doppio cieco, al termine del trattamento il paziente compilava un questionario sulla sua personale preferenza rispetto a quale dei due trattamenti avesse preferito. Il cieco veniva chiaramente sciolto e alla fine il medico, sulla base dei dati, sulla base della risposta della malattia a diversi trattamenti e sulla base delle preferenze espresse dal paziente, decideva quale trattamento fare e in questo studio, anche se numericamente non altissimo, ripeto, uno studio non di efficacia ma solo di preferenza, la maggior parte dei pazienti ha preferito, ha dimostrato in questo studio di preferire il pazopani per una serie di motivi quali fondamentalmente qualità di vita, minore fatica, minore alterazione del gusto, mucosite e quant'altro. Quello che in qualche modo è interessante è che la preferenza del paziente ha concordato con quella che aveva espresso anche il medico. La cosa che sarebbe più utile di tutto ovviamente è la possibilità di avere dei fettori predittivi di risposta, cioè poter dare, sapere già che c'è una possibilità maggiore di dare che il farmaco funzioni in un determinato paziente. Gli SNPs, i polivorfismi, i singoli nucleotidi, sapete che sono un'alterazione di singoli nucleotidi che possono portare ad un'alterazione della funzione di una determinata proteina. È chiaro che se questa proteina può avere un effetto, diciamo, pro-angiogenetico, un effetto sul metabolismo del farmaco, le variazioni degli SNPs, come è stato ampiamente verificato in uno studio su pazopanib, possono essere predittivi di una ridotta risposta al trattamento. La stessa cosa è anche stata evidenziata con sunitinib utilizzando alcuni polimorfismi di geni, soprattutto di farmaco cinetica. Sostanzialmente se il sistema metabolico che elimina il farmaco è troppo attivo, ci si può aspettare una ridotta efficacia del farmaco. Chiaramente gli SNPs hanno una difficile praticabilità clinica, in parte per i costi, in parte per la procedura, in parte per le variazioni genetiche di base legate agli SNPs stessi, in più non sappiamo se sono specifici per un singolo farmaco. Quindi ancora non li possiamo utilizzare. L'altra opportunità sono i cosiddetti fattori predittivi clinici. Sappiamo che gli ipertensioni, i pazienti che in corso di trattamento con sunitinib in questo caso sviluppano ipertensioni hanno una possibilità maggiore di rispondere al farmaco. Ma per quanto questi effetti possono essere interessanti, di fatto vengono utilizzati quando il paziente ha già iniziato il trattamento. Mentre per noi sarebbe chiaramente più utile averli prima ancora di iniziare il trattamento. Per quanto tempo dobbiamo trattare questi pazienti? In realtà non lo sappiamo. Dietro questa domanda c'è anche la possibilità di cura. Nell'epoca dell'interleuchina, quando avevamo le remissioni complete, erano remissioni complete stop. Era molto difficile in parte che il paziente riprendesse. Qui io voglio riaprire un piccolo spazio sulla chirurgia, ma è chiaro che ci stiamo adesso trovando a mettere insieme trattamento medico e trattamento chirurgico, perché sappiamo che pazienti che possono essere sottoposti anche a chirurgia di moltipliciti metastatici, se la chirurgia è completa, hanno una sopravvivenza migliore di chi o non è candidabile a questo o può fare una chirurgia solo parziale. E è vero quindi che, essendo evolute le tecniche chirurgiche, potendo fare oggi chirurgia dove prima forse non potevamo fare, e anche essendo migliorate le tecniche radioterapiche, questo tumore è stato da sempre, storicamente, forse ce lo siamo tramandato a memoria, un tumore considerato radio resistente. Con le nuove tecniche probabilmente questo concetto può essere rivisto. Allora è possibile ottenere una risposta completa, in un certo senso, probabilmente mai patologica o raramente patologica, integrando terapia medica e terapia chirurgica. In questo studio, il retrospettivo, in cui 64 pazienti sono stati trattati, hanno ottenuto una risposta completa, o con il solo farmaco, o con una combinazione di farmaco, un TTI più un trattamento locale, si è visto che non sappiamo se ci sono differenze tra chi nel momento dell'ottenimento della risposta sospende il trattamento, tra chi continua per un altro ciclo, o tra chi continua indefinitamente il trattamento. In sostanza, non sappiamo quando è corretto fermarci nel momento dell'ottenimento della massima risposta. È chiaro che fermarsi sarebbe auspicabile, perché riduciamo la possibilità di eventi tossici che sono legati direttamente proporzionali alla durata del trattamento, e dall'altro probabilmente riduciamo la possibilità di resistenza al trattamento, che è anche legata alla durata dell'esposizione al farmaco. In questo studio più o meno analogo, i pazienti che ottenevano una risposta completa, o con il solo trattamento, o con il trattamento più chirurgia, si è riusciti a farli stare liberi da terapia per una mediana di circa sette mesi, e al momento della riesposizione al farmaco, l'86% dei pazienti ha di nuovo risposto al trattamento. Il futuro del trattamento di pralina forse è legato, all'inizio abbiamo provato con le combinazioni, forse può essere legato a inibitori multipli, che blocchino quindi vie diverse, quando ovviamente la tossicità lo permetta, perché è chiaro che anche è possibile aspettarci eventi tossici maggiori, tanto più alto il numero di vie di pattue metaboliche che noi cerchiamo di bloccare. Quindi, in sostanza, abbiamo molte opzioni terapeutiche, qualcuno forse oggi si chiede se troppe, in prima linea. Non abbiamo ancora, ahimè, strumenti decisionali per sapere come esattamente, quale paziente trattare con quale farmaco. Ovviamente la valutazione dell'esperienza del medico credo che anche sia importante. Sappiamo adesso che ci può essere un aiuto dalla preferenza del paziente stesso, e chiaramente è strettamente necessario l'utilizzo di marcatori predittivi di risposta. Grazie. Mi ha lasciato un po' perplesso, anzi ha aumentato un po' la confusione che già ho, ed è tanta in questo argomento. Quando il when to treat è stato inserito il concetto, su un capoverso diverso di unfit patients, quindi paziente che non è idoneo a una certa terapia, il concetto di osservazione in un paziente con un sito metastatico chirurgicamente favorevole. Cioè abbiamo un paziente con un sito metastatico chirurgicamente favorevole. Non un solo sito, eh. All'interno è un solo sito. O moltiplici siti. Voglio dire, abbiamo una situazione... Un sito è il polmone, non una metastasi polmonare. Abbiamo delle evidenze tali da concederci la possibilità di tenere questo paziente in osservazione, disponendo di alcune terapie. Voi chirurgica, voi combinate chirurgica, radioterapica, terapia biologica. Possiamo basarci, da un punto di vista un po' etico, su uno o due studi che ci dicono che osservazione e terapia dell'Aid Therapy sono altrettanto efficienti. Questo mi confonde un po'. No, no, no. Ho detto, credo di aver detto che queste sono al momento ipotesi. È in corso uno studio di osservazione, uno studio multicentrico in America che sta valutando la possibilità in determinati sottogruppi di pazienti di fare semplicemente osservazione. Io personalmente vengo da una scuola che quando, un conto è il paziente che ha fatto un'efrectomia che ha una stadiazione post-operatoria o pre-operatoria negativa e due mesi dopo ha dieci metastasi polmonari. Su quel paziente non si pone la possibilità dell'osservazione. Ma se io incontro il paziente metastatico d'Amblè di cui non conosco il tempo di evoluzione di questa malattia, io vengo da una scuola nella quale quando avevamo gli interferoni, chiaramente, o l'enterlochina, chi l'ha utilizzata, farmaci non particolarmente attivi, noi non abbiamo mai iniziato un trattamento senza rifare un attack dopo due mesi. Mai. Quella malattia può stare lì da dieci anni, io non posso saperlo in un paziente come questo. Quindi io sono abituato storicamente, nel paziente che vedo per la prima volta, che non è sintomatico, ovviamente, a rifare un attack di controllo dopo poco tempo. Per capire quantomeno, non so perché, adesso ci si basa solo su alcuni parametri, la frazione di crescita in alcuni tumori permette di decidere il trattamento se è adiuante, se non è adiuante, il K67, 14%, meno 14%, sul cui neoplasia ci basiamo ancora su dati riproducibili, semplici da fare, economici. Qui è scomparsa questa valutazione. Allora, io sono d'accordo sul fatto che oggi non ci sia un metodo che mi possa dire quale paziente osservare, ma io credo che non sia non etico, considerando, io non voglio dire i costi, ma possiamo metterci anche questi, per un paziente che arriva asintomatico senza una malattia devastante, fare un'osservazione. Nel paziente che ha avuto poi le metastasi cerebrali, noi non l'abbiamo trattato perché due singole lesioni polmonari dopo nefrectomia avremmo voluto inserirlo in uno studio, non entrava perché non aveva criteri dimensionali per entrare, due mesi dopo quelle metastasi erano scomparse. Quella storia è stata sfortunata perché ha sviluppato malattia cerebrale, ma l'avrebbe sviluppata probabilmente lo stesso. Quello è un caso paradigmatico, sono due casi limite, sono aneddotici, mi scuso quasi per averli portati, però volevo solo dire, prego. No, no, direi che l'esempio è chiaro. Io semplificherei ulteriormente il concetto dicendo che nel mondo reale, se manteniamo il concetto delle due metastasi polmonari, ribadisco il concetto di prima, una sede è polmone, è fegato, non è una metastasi polmonare, una metastasi epatica, attenzione a non equivocare il concetto di sede di malattia. Però se il paziente, mettiamo il caso di un paziente anziano, cioè il paziente diciamo candidabile ad un'osservazione come secondo i criteri che ha esposto Fabio Calabro, ma che abbia, insomma, due nodi polmonari periferici accessibili facilmente in torocoscopia, quindi con una resezione conservativa, probabilmente va in intervento. Lo stesso paziente con un logo di centrali che richiede una lubiectomia o più in un paziente anziano, probabilmente con i criteri giusti potrebbe essere l'osservazione, perché la sede in questo caso fa la differenza nell'approccio. Siamo d'accordo nell'aspettare degli studi che traslino questa pratica nella pratica clinica, ma nel caso singolo secondo me si ne può discutere con il paziente dopo che l'hai informato e l'hai informato e l'hai informato. Sono d'accordo con Fabio che sicuramente quel paziente anche trattato avrebbe sviluppato metastasi cerebrali perché già ce l'aveva ovviamente e ce l'avrebbe sviluppato in maniera evidente dopo due mesi. C'è anche un'altra cosa, c'è una depositiva che ha presentato credo nel 2011 Walter Stadler che mi sono ripenduto varie volte che the longer you stay cioè più tempo tu stai con un trattamento attivo the longer you leave. Se questa provi a girarla è valida lo stesso the longer you leave cioè più la tua malattia ti consente di vivere più tempo tu probabilmente starai in trattamento. Capisco che è difficile non voleva essere un'indicazione ad osservare tutti i pazienti ma a capire che può esistere questa cosa al punto tale che sono iniziati gli studi. Tanto è che potrebbe interessare un buon 5-10% dei casi attenzione non un numero risibile insomma altre domande? Dottoressa? Ok Dottor Uncolo lo dica Una considerazione sui micronoduli polmonari i micronoduli polmonari non sono di facile così identificazione nel senso si identificano facilmente ma poi essere certi che siano effettivamente di natura metastatica è tutta un'altra faccenda perché la PET non chiarisce la natura la gobiossia spesso non è fattibile la videotoracoscopia è poi sempre un intervento invasivo e non sempre ci si arrivi e nella pratica clinica abbiamo visto tutti dei micronoduli polmonari scomparire senza nessun trattamento e non soltanto nel tumore del rene e non soltanto nel paziente oncologico la seconda considerazione invece è una considerazione ma una domanda dal punto di vista pratico come fa il paziente il medico col paziente dell'oncologo a decidere qual è il trattamento che il paziente può preferire dal punto di vista registrativo riferendomi allo studio Pisces cioè dal punto di vista pratico come è possibile questo è uno studio e quindi vorrei capire allora qual è il messaggio non nessun messaggio ho presentato uno studio che è stato presentato all'ASCO quest'anno che è uno studio da cui dobbiamo trarre però che probabilmente il pazzovani può essere un farmaco con un profilo di tossicità questo lo sapevamo già non serviva questo studio probabilmente secondo me questo studio apre un'altra piccola cosa non riguardo i singoli farmaci ma riguarda la possibilità che sarebbe interessante forse studiare di non dover stressare un trattamento fino all'ultimo cioè che possa essere forse possibile crossare da un trattamento ad un altro senza per forza aspettare la progressione a me sembra molto interessante questo messaggio di questo studio ci sono studi in corso anche di questo esattamente quindi sulla la domanda è corretta me lo sono chiesto anch'io ok c'è una buona percentuale di pazienti che prediligiano un farmaco rispetto ad un altro di là che il numero è piccolo quindi non possiamo sapere ci possono essere bias in questo nella pratica clinica questo in che cosa si traduce sappiamo che c'è un profilo di tossicità diverso tra due farmaci diverso in tutti i sensi non per forza migliore sicuramente diverso se il nodulo periferico è troppo piccolo il chirurgo toracico ti dice che non riesce ad apprezzarlo quindi sicuramente questo è un criterio di esclusione dall'applicabilità dell'indicazione altre domande c'è Camillo Camillo ah scusa solo un'indicazione sul PISCES io credo che il messaggio più importante del PISCES sia questo i criteri che noi abbiamo utilizzato fino adesso per la valutazione della qualità della vita sono chiaramente insoddisfacenti e non permettono di capire esattamente qual è la soggettività del singolo paziente questo è emerso molto chiaramente dalla discrepanza tra i gradi di tossicità riportati nello studio PISCES e quello che i pazienti riferivano come la principale causa per la loro preferenza questo è il messaggio che deve emergere al PISCES questa è una cosa che purtroppo ho mancato di dire è verissimo da un punto di vista della gradazione della tossicità non ci sono state grosse differenze generazione obiettiva quella valutata dal medico però per esempio sulla diarrea c'è una discrepanza importante ok faccio solo aspetta che c'era Rezzo Colombo c'era un aspetto in questo approccio di target therapy di tumore del rene che fin dall'inizio mi ha così interessato e che però nel corso degli anni non ho visto sviluppare l'esistenza di diverse pathways ben definite ben riconosciute in questa malattia è un po' una peculiarità esiste anche per altre ma qui è molto più evidente si è giocato un po' tutto il ruolo della target therapy è anche riconosciuto che queste differenti vie sono in parte collegate e in parte sono anche svincolate sembrerebbe la cosa più logica avendo a disposizione i farmaci che agiscono sulle diverse vie utilizzarle in contemporanea questo quanto meno in un modello ottimale quindi la prima domanda era esistono degli studi in questo senso non sono stati fatti perché non sono praticamente fattibili per la paura della tossicità o perché non esiste effettivamente un modello ottimale e in conseguenza forse più utile dal punto di vista pratico il risultato più evidente di queste terapie sono la stabilizzazione temporanea della malattia nel momento in cui la malattia progredisce dopo i mesi di stabilizzazione l'uso conseguenziale di una differente terapia ha qualche cosa di provato di validato al di là dei crossover fatti negli studi prospetti questo sarà oggetto della relazione di Camillo dopo e ci sarà tantissimo da dire su questo per quanto riguarda la prima domanda invece nei primissimi anni dopo la metà degli anni 2000 si è provato proprio per questa caratteristica peculiare di questa malattia per questa amputazione di VHL che rende l'angiogenesi predominante nello sviluppo della malattia a fare i blocchi di due tipi o verticale cioè bloccare step diversi lungo la stessa via metabolica o il cosiddetto blocco orizzontale cioè bloccare la via di VGF e la via di EGFR per esempio la via di PDGFR sono stati fatti degli studi uno di Bukowski metteva insieme un inibitore di TKI l'erlotinib e l'imatinib ma la tossicità è tale anche perché gli effetti sono vie metaboliche che sono utilizzate normalmente dalle cellule fisiologicamente da tutte le cellule per cui gli effetti tossici sono risultati molto alti anche quando in tutti gli studi di combinazione l'unico presentato non ha dato nessun risultato particolarmente interessante ma o si è dovuto abbassare le dosi dei due farmaci o di uno dei due per consentire l'associazione o quando si è lasciate le dosi dei singoli farmaci a livello massimo ottimale si sono riscontrate tossicità o troppo alte o nuove addirittura non conosciute non prevedibili quindi le combinazioni in questo momento probabilmente non sono il massimo però è corretta la curiosità volevo solo spendere due parole per ricollegarmi a quello che ha detto Camillo e solicitare tutti noi a spendere un po' di tempo nel colloquio con i nostri pazienti quello che ha detto Camillo è assolutamente giusto per noi tossicità poco rilevanti o apparentemente poco rilevanti per i pazienti possono avere un peso molto importante sulla qualità di vita e tutto il resto credo che un paziente informato all'inizio del trattamento quando tu pianifichi il trattamento possa essere un paziente che affronta meglio un evento avverso e quindi ti possa anche permettere poi di raggiungere o di ridurre quel numero di sospensioni temporane di razioni del trattamento riduzioni di dose che sono un grosso problema che magari impediscono ci impediscono di ottenere più risultati di quelli che in realtà poi otteniamo questo è forse il messaggio finale del PISCES probabilmente non la scelta del singolo farmaco sono d'accordo allora andiamo avanti grazie Fabio grazie grazie grazie